L'ascensore di Viale dei Martiri si ferma prima ancora di partire, ma iniziamo da quello che noi avevamo detto e predetto mesi fa. Clamoroso dopo la falsa partenza, bisogna rifare la gara per l'ascensore di Prato Santa Caterina. L'ascensore di Prato Santa Caterina è impantanato, ma si parla di una revisione dei prezzi. Quanto costerà ora? Già a settembre, con largo anticipo rispetto agli sviluppi di queste ultime ore, vi avevamo informati che la realizzazione dell'ascensore rischiava di impantanarsi, appesantita da cifre prima troppo basse e poi troppo alte. Morale della favola, che al momento non ha una fine e men che meno un lieto fine, è che l'azienda che doveva realizzare il doppio ascensore ha deciso di rinunciare. Tutto congelato dunque? Beh, come tutte le cose che si mettono in congelatore e poi si possono sempre scongelare. Quello che accade adesso è che noi abbiamo chiesto al progettista di rifare il computo metrico in base al prezziario del giornamento del 2023 e anche ai costi della macchina, cioè degli ascensori che sono di acciaio in vetro. Fatto ciò, il progetto che tecnicamente non ha problemi, ripeto, tecnicamente non ha problemi, può ritornare di andare in gara. Tuttavia non si tratta di una passeggiata, almeno per quanto riguarda le tempistiche. È da rifare tutta la trafila con gli inviti e tutti i tempi tecnici del caso. E sono in molti a chiedersi quale sarà l'adeguamento dei prezzi, insomma quanto costerà in più rispetto agli 800.000 euro e spiccioli per i quali si era giudicato il primo bando l'azienda partecipante. La domanda delle domande però resta una. Questo ascensore si farà sì o no? Noi dobbiamo pensare di fare velocemente le questioni amministrative per poter vedere la prima pietra, diciamo, messa giù prima della fine dell'amministrazione.